Ciao a tutti! Oggi nuova puntata dei libri young adult, ovvero la rubrica a cui vi consiglio libri dedicati ai giovani adulti, ovvero dei veri e propri young adult. Un genere che ammetto, più che genere, è target, però lasciate correre. Un genere che ammetto di non frequentare molto spesso, generalmente non mi interessano, per gusto personale non sto dicendo che non siano degna letteratura, ma per gusto personale è un genere che è bazzico poco, però ogni tanto mi capita di leggerne qualcuno e se è di qualità mi piace consigliarvelo, perché la quantità di titoli del genere sono infiniti e quindi è molto difficile orientarsi e dato che c'è una sovrabbondanza di roba, come avete visto dalle recensioni trash, il rischio di incappare in trappole mortali è molto elevato. Però nel caso mi capitasse di trovarne qualcuno ottimo, ve lo consiglio, anzi invito chi bazzica più spesso il genere a consigliarne qua sotto nei commenti, in modo che anch'io possa guzzare bene la vista in cerca di un libro un po' più leggero ogni tanto. Il libro di cui vi parlerò oggi è un libro che ha ad occhio da un sacco di tempo, non l'ho mai letto sin oggi e non so il perché, soprattutto quando il film da cui il libro è tratto è stato un must della mia... no, il contrario, dal libro è nato il film, non è che il libro è nato dopo il film, vabbè, comunque quel film è stato il must della mia preadolescenza, l'ho visto un milione di volte, l'ho sua memoria, lo adoro alla follia. E il libro finalmente l'ho letto e sto parlando di Battle Royale di Koshun Takami, ad oggi l'unico romanzo dell'autore giapponese, un romanzo che all'epoca della sua uscita nel 99 scatenò un vero e proprio polverone, diventando immediatamente il libro più venduto di sempre in Giappone e ha anche ottenuto un enorme successo di critica e pubblico anche all'infuori dei confini nipponici, anche in occidente, scatenando un vero e proprio fenomeno di massa. Il libro ha scatenato, ha ispirato anche due film, il primo è quello di cui vi parlo, di Kinji Fukasaku, maestro dello Yakuza Movie giapponese, e il suo seguito, che invece è orribile, non guardatelo assolutamente, è un manga. Successivamente ha creato anche moltissimi imitatori, tantissime saghe young adult sono chiaramente ispirate a Battle Royale. In primis si dice, io dico si dice perché non l'ho né letta né vista, però questa saga molto molto famosa è stata un po' criticata per accuse di semiplagio e sto parlando di Hunger Games di Suzanne Collins. Io non so quanto effettivamente sia presente la forte ispirazione, mi direte voi nel caso in cui abbiate letto o visto entrambe le opere, ma comunque questo serve solo per dirci che Battle Royale, nonostante sia un libro, diciamo, di genere, in questo caso genere distopico, splatter, ha creato un vero e proprio fenomeno di massa ed è diventato un libro contemporaneo, in grado di scandagliare la letteratura contemporanea, in un certo senso, e anche ispirare una notevole sequela di imitatori, ecco. Lo stesso Battle Royale però è chiaramente ispirato ad un classico della letteratura, ovvero il Signore delle Mosche, quindi non è che non ha inventato, non è che ha inventato tutto, però comunque ha dato il suo contributo per influenzare un certo tipo di letteratura. Allora, partirei subito dal film per arrivare proprio al libro, perché il film lo conosco benissimo, nel senso che appunto l'ho adorato alla follia, il film lo trovai immediatamente geniale, il manga non l'ho letto invece, ve lo dico subito. Il film è bellissimo, racconta appunto esattamente come il romanzo la storia di questa realtà distopica, occhio non è un futuro distopico, perché la storia è comunque ambientata nella fine degli anni 90, è una realtà distopica alternativa, in cui c'è questa legge indetta dal governo, dove a caso, casualmente, una classe giapponese di terza media, che in Giappone equivale alla nostra seconda superiore per età, quindi sono ragazzi di 15 anni, devono compiere un gioco, un gioco di tipo darwinista, nel senso che vengono costretti ad uccidersi l'uno contro l'altro su quest'isola deserta, finché non ne rimane solo uno, che viene dichiarato, diciamo, il vincitore. Questa è la trama a grandi linee. La mia recensione del libro, per forza di cose, farà ogni tanto riferimento al film, ma, ovviamente, io sono dell'idea che film e libro, anche quando sono di ispirazione, uno si ispira all'altro, sono comunque due opere distinte. Quindi non credo al fatto che il valore di un'opera sia nella fedeltà, cioè non me ne frega niente, il valore di un'opera sta nel suo valore effettivo. Però, comunque, è sempre bello da appassionato vedere che cosa è stato simile, che cosa no, che cosa funziona meglio da una parte, che cosa funziona meglio dall'altra. Parlando del romanzo, allora, il romanzo è 600 e passa pagine, 670 all'incirca, e si legge in un battibaleno. Tiene veramente inchiodati alla poltrona. Io l'ho letto conoscendo già effettivamente la storia, ma ho molto apprezzato come questa è stata approfondita all'interno del libro. L'unica cosa che, secondo me, è pesante, ma fino a un certo punto, nel senso che ci si abitua presto, è che è un libro oggettivamente scritto malino. Cioè, male. A me non è piaciuta la scrittura, perché è molto grezza, è molto da romanzo da spiaggia, per dire. Oltretutto c'ha degli scivoloni, a volte, mamma mia, ad esempio, non lo so. Mi viene in mente... È una cosa che succede tantissimo nel romanzo, che mi ha messo un po' sui nervi, però alla fine mi sono abituato, mi sono andato avanti. Un esempio che mi ricordo, tipo, c'è un personaggio, c'è il suo background, e viene detto, è un Don Giovanni, ha perso la verginità a 13 anni, per dire, tra parentesi. No, ha perso la verginità e si è fatto tre ragazze. E tra parentesi c'è pure un commento, mica male per un ragazzo di 15 anni. Ora, questa frase mi sembra totalmente fuori luogo, perché da una parte non si capisce se è un commento dell'autore, della voce narrante, o se è il pensiero del personaggio che si autoloda e quindi si imbroda. Questi meccanismi di scrittura poco chiari, narratore oniscente, che spazia un po' di qua, un po' della scelta dell'essico, un po' grezza, è un po' in linea di molta produzione young adult, per dire. Però, se siete... L'importante è leggerlo senza aspettarsi uno stile roboante, perché secondo me i limiti principali del romanzo sono a livello di scrittura, perché a livello di immaginario Takami ha fatto un lavoro straordinario. Allora, in più rispetto al film, di valore, secondo me qua dentro, c'è una maggiore attenzione, un maggiore approfondimento sul lato satirico e politico del gioco. Nel senso, viene proprio approfondito questo aspetto che nel film non c'è, viene tralasciato quasi totalmente. Nel film, viene un po' minimizzata al fatto che questo gioco viene indetto per l'alto tasso di disoccupazione, l'alto tasso di delinquenza giovanile, mentre nel libro c'è un discorso molto più complesso, dedicata proprio a un cambiamento di tipo mondiale, al fatto che il Giappone sia diventato parte, colonia di un impero grande che è la grande Asia dell'Est. C'è proprio un discorso politico forte, anche nelle motivazioni del gioco, che viene visto quasi come una sorta di estrema leva militare, dove però l'obiettivo, non ve lo spoilerò assolutamente, ma l'obiettivo è assolutamente nell'interesse di quel mondo distopico. Tuttavia, esattamente come nel film ed esattamente come qui, è poco importante a livello simbolico le motivazioni vere e proprie, perché sia il romanzo che il film sono, spiegano abbastanza bene sotto testo, naturalmente perché è un simbolo, il fatto che nella società giapponese, è una forte satira quella che viene raccontata, ma nella società giapponese, attenzione, non è una cosa così distante da noi o da noi in Occidente, perché è una cosa che avviene anche qui, magari in toni minori, ma avviene anche qui, secondo me. Nella società giapponese c'è un forte spirito di competizione, soprattutto all'interno della società, delle strutture scolastiche, del dovere, del lavoro, e ci si trova quasi per ottenere del successo ad ammazzare gli altri, magari a livello spirituale, magari a livello di mi frego i tuoi meriti, ci si fa la guerra in un certo senso per raggiungere un successo, una levatura morale di un certo tipo, una levatura professionale di un certo tipo, quindi è una critica a quel tipo di mentalità formata da una società basata su questo, sull'autorealizzazione del sé a discapito degli altri. Quindi un modello di vita competitivo dove si dimenticano empatia, collaborazione, e si predomina un modo di vivere puramente darwinista. Tant'è che nel romanzo emerge molto bene, soprattutto nel finale, che non vi rivelo assolutamente, ma dove l'idea del gioco che continua anche al di là del gioco fa intendere proprio questo, nel senso che quando si diventa adulti si diventa parte di un gioco competitivo, a prescindere dagli affetti, a prescindere dalle relazioni. È un discorso molto cinico di denuncia che però funziona molto bene. Rispetto al film, il libro è molto più sanguinolento, molto più cruento, anche se il film ha dalla sua parte, come pro, un forte eccesso visionario. Kinji Fukasaku è un regista con un'esperienza alle spalle pazzesca, ha anche lavorato molto nel cinema di genere, quindi è benissimo in grado di mettere in scena delle fortissime scene action. La punta di diamante del film era una bellissima, epica, battaglia nel faro, tra ragazze. Cioè, chi l'ha visto il film lo sa, quella è la scena madre. Cioè, ci sono queste ragazze rinchiuse nel faro e c'è una scena da bagno di sangue pazzesca per regia, per action, per gestione degli spazi, dei tempi. È perfetta quella scena, è epica, proprio un sapore epico. Nel libro è piatta. Cioè, la leggi, c'è comunque la sua tensione, ma non c'è quel abisso fortissimo del film, quindi, ovviamente, il film dalla sua parte ha un eccesso visivo più forte da un certo punto di vista, soprattutto perché il libro, come dicevo prima, non è perfetto a livello di scrittura. Quello che invece il romanzo ha in più, oltre all'approfondimento da un punto di vista politico, sociale, approfondisce molto meglio l'aspetto di satira, l'aspetto di significato del simbolo, dall'altra parte approfondisce tutte le storie dai personaggi, che il film, per forza di cose, ometteva molto spesso, soprattutto per quanto riguarda gli studenti secondari. È molto facile ad affezionarsi a tutti i 44 studenti qua dentro, perché tutte le loro storie nel romanzo sono trattate quasi con uguale importanza. naturalmente ci sono i personaggi principali che hanno maggiore spazio, Shogo, Shuyano, Riko, Mitsuko, e Kazuo, sono loro i principali. Però scopriamo delle storie bellissime che il film ci evitava. La storia di Yoshimi, ad esempio, che io non vi spoilerò, però nel film veniva fatta seccare subito, nel libro ha la sua importanza che contestualizza in un certo senso il suo rapporto con i compagni di classe, il suo rapporto con le amiche in un certo senso. Anche Mitsuko all'interno del romanzo, Mitsuko era la mia preferita, perché nel film era quella cattiva che voleva ammazzare tutti. Nel libro anche così, e lei è così, è una donna molto bella, è una ragazza molto bella, è sensuale, sa di essere bella e sa giocare alle sue carte per farla agli altri. Nel libro, però, questo suo comportamento è molto contestualizzato in base al suo background, che viene raccontato molto molto bene. Sono personaggi caratterizzati alla perfezione, secondo me. E dirò di più, come ultima cosa, posso dire che per il lettore occidentale che non è abituato a opere giapponesi, già questa cosa c'era nel film, ma nel romanzo molto più presente, può risultare inizialmente fastidiosa il soffermarsi forte sul lato romantico delle relazioni tra gli studenti, mi piace quello, ti piace quella, che fa un po' estremismo manga, tipo piccoli problemi di cuore, secondo me, in realtà, è fortissimo questo, perché sono come gli ultimi spiragli di emotività di questi ragazzi. Sono forti per la loro caratterizzazione, proprio perché stiamo parlando di ragazzini, quindi quindicenni, che stanno per diventare uomini e donne e sono un passettino indietro piccolo, quindi non sono ancora perfettamente entrati nel sistema di cannibalizzazione, no, gli uni con gli altri, quindi leggere il romanzo, magari all'inizio il primo gossip romantico può lasciare, tipo, ma perché in un momento simile si chiedono ti piace quello, ti piace quella, ah no, quella è morta, non mi piace più. Poi pian piano scorrendo le pagine questa cosa emerge molto ed è una cosa molto bella del libro che si capisce bene, cioè questi sono ragazzini costretti ad ammazzarsi che sono rimasti ragazzini e quando diventeranno adulti in un sistema così marcio che cosa diventeranno? Ora hanno ancora uno spiraglio di emotività, hanno ancora da qualche parte uno spiraglio di empatia e poi? E poi cosa diventano? Per dire, è molto forte il messaggio che Takami sta mandando con questo libro di apparentemente puro intrattenimento e pura carneficina. È un libro molto più complesso di quel che sembra e non mi sorprende il fatto che un regista comunque autoriale come Fukasaku abbia deciso di trasporlo a film. Per questo motivo dico che nonostante i suoi limiti di scrittura, nonostante molti difetti, ad esempio ci sono dei personaggi che non mi sono piaciuti minimamente come sono stati caratterizzati come Shaw che è un ragazzo gay che è al limite della macchietta per dire, ma non è l'unico, ce ne sono alcuni che dici ma d'osa, però a parte un paio sono tutti caratterizzati benissimo, è proprio credibile ed è facilissimo affezionarsi ai personaggi, ti mancano quando finisci il libro e secondo me è una cosa fondamentale per un libro del genere, non è pura carneficina, è un racconto di tante storie che si intrecciano, è un racconto molto più complesso, molto più ad ampio respiro ed è secondo me il suo valore, quindi nonostante i suoi difettucci dicevo, è un libro che straconsiglio, è un libro che reputo assolutamente valido e da leggere quando si cerca qualcosa di più di intrattenimento ma non banale, è sicuramente un libro young adult di classe superiore al 95% della roba che esce adesso, quindi ve lo consiglio, fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto vi è piaciuto o non vi è piaciuto fatemi sapere il perché in caso io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video ciao ciao